Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro agio. Altro monolite e in questo caso dovrebbe essere Bahamut questo, dato che ci troviamo praticamente a Sunbreak e abbiamo la mano di Mimas in capo orsiere, quindi in questa zona della mappa. Esatto. Bahamut in realtà lo conosciamo abbastanza bene in realtà. Allora, questo cos'è? Soffio sfolgorante e questo è satellite, che sono le due tecniche che non ho mai utilizzato per Bahamut. Quindi direi abbastanza figo. Allora. 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 Grazie a tutti 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 E' l'unica cosa che mi fa impazzire Grazie a tutti 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 Grazie a tutti